Efficacia dei vaccini anti-covid. Questo è lo studio dei dati della ASL di Pescara elaborati dall'Università di Ferrara. Lo studio ha confrontato il numero di infezioni, casi di malattie e decessi tra tutti i vaccinati e di non vaccinati della provincia di Pescara a partire dal 2 gennaio fino al 26 aprile di quest'anno. In totale sono stati valutati 37.467 vaccinati e 237.778 non vaccinati. Le analisi hanno tenuto conto del tempo necessario per la produzione di anticorpi e sono state controllate per età, sesso e durata del follow-up. I risultati sono stati molto incoraggianti. Dopo una media di 30 giorni dalla data prevista di produzione degli anticorpi, tutti e tre i vaccini somministrati Pfizer, Moderna e AstraZeneca hanno ridotto il rischio di infezione, malattie e decesso di oltre il 90%, con punte fino al 99%. Questi risultati sono stati molto simili fra maschi e femmine e per coloro che hanno ricevuto la seconda dose, anche con un certo ritardo rispetto a quanto previsto dai protocolli ottimali. Abbiamo analizzato tutti i vaccinati e i non vaccinati del Covid, ovviamente, della provincia di Pescara. Abbiamo visto che nelle persone vaccinate i casi di infezione si sono ridotti del 95% rispetto ai vaccinati e i casi di malattia si sono ridotti del 99%. Ovviamente questi sono dati che si riferiscono a un follow-up inevitabilmente non lunghissimo e quindi dovranno essere confermati, però è molto improbabile che si scenda molto. Si potrà andare dal 95% o al 90%, però questi sono vaccini che sono risultati tutti efficaci, tutti e tre. Cosa significa questo da un punto di vista prettamente sanitario? Significa che giustamente c'erano dei dubbi comprensibili perché sono vaccini nuovi e perché i dati fino ad oggi erano o su altri paesi pochi oppure solo su sperimentazioni cliniche che sono importanti ma sono quelle sponsorizzate dai produttori. Questi dati sono dati spontanei, sono dati di popolazione e speriamo contribuiscano a rassicurare sull'efficacia dei vaccini. Questi vaccini effettivamente funzionano.